Ben ritornati ragazzi in questo nuovo video Allora, dopo di aver scoperto Che nell'altro video successivo Ho preso solo il collo Cioè, malapena qua, il collo Cioè, proprio il collo E quindi Spero che questa volta mi riprendi Un po' la maglietta Perché cazzo, ho fatto una inquadratura di merda Allora Quindi C'è un cazzo Bene, bene Continuiamo Ciao Aprile le palle, va bene Cazzo Che cazzo è il resto? Batteria Batteria Credo che mi seguo fino a qua No, dai Tre Tre Oh Salve Sia tranquillo Non le voglio le calde in stundano Allora Quindi Quindi baffanculo Sono incurato Salve a lei, salve a lei Eh, quindi Di qua no Di qua 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 No, non è qua Qua Ciao Qua Qua Swak Swak Qua E di qua Salve 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 Aspetta, aspetta, aspetta Sì 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 Che cazzo c'è da giù? Aspetta, aspetta, carica Allora Pierfetto È tutto Pierfetto Allora Quindi di qua Ci sono Chiuso Però devo andare Devo andare di qua Mi sa Non lo so Qua Dove ho trovato una chiave C'era pure scritto Ti serve la chiave per aprire la porta Bene Grazie, padre 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 Ciao Ciao Padre Padre, no Ehm Quindi Che cazzo Sì Quindi Di qua No Sì Di qua Sì No Qua Ok Sì ma Puoi prendere la manina Proprio Braccine qua Mi servono i fusibili? Tre fusibili Tre fusibili Oh Guarda quante belle batterie Ok Ok Di qua Di qua No No Bisogna andare Di qua Salve anche lei Tante belle cose Ok Adesso siamo sul piano superiore Di quella scala Di quella scala Rotta Lassù Porco Alve 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 Senta Facciamo così Intanto raggiù Non c'è nessuno Questo qua non mi è in cura Allora io prendo Questo Chiudi cazzo di Grazie Ciao Ok Sta sfondando Per un fusibile Per un Cazzutissimo fusibile Due batterie Perfetto Ah Allora mi vogliono in cura Da tutti e due lati Pezzi di merda Beh Allora intanto Cance Di carica Grazie Quindi Cazzo Vaffanculo Vaffanculo Vavate Chi cazzo T'ha creato Ecco Come lo di tutta Vabbim Ok Il batteria lì L'ho preso Non giochiamo Non giochiamo Non voglio giocare Non voglio giocare Non voglio giocare Non voglio giocare Per favore Non voglio giocare Non voglio giocare Cazzo Gioca Porca Cazzo Vaffanculo Te Zucchiano Ok Ok, ok Scappa 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 Cora, cioccolata Scappa 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 Grazie Oh, sicuro Siamo al sicuro Però Però qua non c'è nessun fusibile Vabbè Vabbè anche lei Requiescati in pace Ok Quindi Adesso Un altro fusibile Dove potrei trovarlo Mi potrei nascondere qui sotto Se arrivi un mostro C'è 4 Vabbè In tal caso Mi nasconde In tal caso Me lo prendono il culo Vabbè Che cazzo è sto romano Vabbè Vabbè � Vabbè 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 Chi Cazzo vuoi fare? Hai finito? Basta Ok Allora Quindi amico Senza uccello ovviamente Tutto a posto Stai benissimo ovviamente Stai Perfetto Guarda i bei occhietti che ha belli bianchi Che ti specchiano la vita interiore Perfetto Bene Invitiamo il warrider Cazzo Ti piacciono proprio? Comunque Mi ho scappato da questa merda Sennò non usciamo più Quindi Ma Metti Le batterie Scappano Madonna di quella zoppa Non ti chiudere D'affanculo Dov'è l'altro? L'altro fusibile Dove cazzo è l'altro fusibile? Quindi L'altro fusibile deve essere di qua No è giù Quindi In conclusione In conclusione Minchia già 10 minuti di video Vorrei caricarne un pochettino Di più eh Di questi cazzo di video Così almeno lo finiamo subito Baffanculo A parte che non lo segue Manco nessuno Chissà se qualcuno È arrivato al massimo Al minuto 5 5 Nessuno è mai arrivato Al minuto 5 Dei miei video Quindi Davide amico Davide Tante belle cusse Come sempre Però Lei il fusibile Non ce l'ha Vero? Piccolissimo fusibile Dai che sta fermo Ti affermo Ti affermo Non fare il furbo Senta amico Devo chiedere una piccola informazione Ma lei Hai visto amico Ok Non ha visto un fusibile Va bene Non importa Poteva dire No Non l'ho visto Io me ne andavo Tranquillamente Tranquillamente me ne andavo Va bene Ok ragazzi Abbiamo perso tutti i fusibili Quindi A questo punto Direi di ricominciare tutto dal capo Ci becchiamo al prossimo gameplay E Ciao a tutti